No, penso che siamo sullo stesso percorso con lui e con il Partito Democratico, perché l'anno prossimo sarà un anno in cui dovremo applicare le riforme, riforme che saranno importanti dal punto di vista economico e politico per passare da un paese che è più stabile, con le situazioni che creano, una situazione dove è possibile per il governo lavorare, dove il mio governo possa lavorare. Questo è il punto cruciale ed è per questo che sto svolgendo questo incarico che non è facile, ma ritengo che sarà assolutamente decisivo. Sono certo che il Partito Democratico seguirà e sono certo Renzi, Cuperlo e gli altri saranno da questa parte, perché sanno benissimo che il cambiamento del sistema istituzionale e naturalmente alcune riforme economiche importanti saranno decisive per le capacità del Paese di essere efficace e della sua capacità di applicare le riforme. Possiamo passare alla finanziaria